Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, vi spiego come risolvere i problemi riguardo al bluetooth su pc che non funziona quindi in questo caso se avete il bluetooth integrato nella vostra scheda di rete però non dà segni di vita oppure state collegando una chiavette usb che dà il bluetooth però non funziona quindi in questo caso se adesso vado un attimo in gestione dispositivi tasto destro sul logo di windows, qui troviamo tutti i nostri dispositivi vado un attimo a collegare il dispositivo bluetooth, eccolo qua ecco il nostro bluetooth tutti i dispositivi collegati così alla mia chiavetta usb bluetooth tasto destro sopra su bluetooth device e fate aggiornare driver cerchi driver nel computer, scegli da un elenco di driver disponibili nel computer metti questo, fai avanti e aggiorni così tuo driver se non dovesse funzionare possiamo sempre aggiornare i driver del nostro dispositivo grazie al programma driver easy il programma te l'ho lasciato in descrizione quindi lo troverai sul sito quindi ci saranno vari abbonamenti ovviamente chi ha l'abbonamento gratis ci sarà un limite del download quindi per scaricare tipo 5 megabyte ci metterà parecchio perché questa è la versione gratuita quindi se vado su aggiorna qui ci sono tutti i dispositivi che devo aggiornare sul mio computer quindi in questo caso non ho nessun dispositivo da aggiornare sul bluetooth quindi per farti un piccolo esempio vado direttamente su aggiorna quindi prendo il dispositivo tu prendi il tuo dispositivo bluetooth se c'è qua dentro vado su aggiorna faccio crea manualmente faccio continua installa manualmente faccio continua ed eccolo qua uscirà così questa cartella andiamo così a cliccare su percorso file qua copi così il percorso file di questa cartella piena di file per aggiornare il nostro dispositivo chiudi la cartella tasto destro su product aggiorni driver cerca driver nel computer e metti il percorso file qua così facendo vai avanti e installi il driver su questo dispositivo fnull se no in questo caso è possibile fare tasto destro sopra disinstalla il dispositivo e poi riavvi il tuo sistema si reinstalla così il dispositivo e può vedere se è tornato a funzionare se in questo caso non dovesse andare possiamo sempre farlo su risoluzione dei problemi quindi impostazione risoluzioni problemi altri strumenti di risoluzione dei problemi bluetooth fai esegui abbiamo il tuo consenso di eseguire la diagnostica facciamo sì continua ora ci dice di assicurarci di scaricare e installare tutti gli aggiornamenti in sospeso di windows update quindi viene visualizzato il messaggio di avvia e richiesta facciamo sì e avviamo pure il nostro pc perché una volta scaricati e installati gli aggiornamenti bisogna avviare il nostro computer e come ultimo procedimento se non dovesse andare con questi passaggi possiamo sempre risolverlo su servizi quindi andiamo su servizi andiamo fino giù fino a trovare il bluetooth user service questo qua facciamo avvia e avvia così il servizio ed eccolo qua metti tipo di avvio manuale e fai applica per altri problemi ancora puoi sempre commentare sotto al video se ti è stato utilissimo questo tutorial su come risolvere il problema riguardo al dispositivo bluetooth che non funziona su windows 10 o windows 11 iscriviti lascia like noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao